I ragazzi hanno fatto tutti, adesso iniziamo una piccola parte di riscaldamento, in quanto provo a presentarvi, davanti a tutti c'è Pasquale Di Vicco, attreta di interesse nazionale per quanto riguarda il combattimento, dietro di lui Alida Costa, un talento che è cresciuto a Caserta, poi abbiamo il campione mondiale europeo paratecondo, Riccardo Zinderman, che è atleta della nazionale italiana, poi abbiamo Roberta Desiderio, più volte medagliata ai campionati italiani, Giuseppe Pascuarillo, Giuseppe Castellucci, anche lui atleta molto dotato, Alessandro Guida e poi le due piccoline che sono Giuliana e Sofia.